Un momento importante, un momento decisivo della stagione, i ragazzi sono stati molto bravi e direi che anche stasera hanno meritato la vittoria contro un Inter che ha giocato a livello fisico sapevamo della fisicità dell'Inter, nel primo tempo infatti nei primi 20 minuti l'abbiamo messo in grosse difficoltà poi bisognava essere un pochino più bravi, avere un pochino più di pazienza, un po' più di lucidità poi al secondo tempo una volta sbloccata è stata una partita abbastanza facile a gestire a parte il ritorno finale dell'Inter Vincere è direttamente collegato a rimanere più in classifica perché anche se domani Napoli vince però con quattro punti di vantaggio rimaneva più uno, però è campionata ancora lunga ora però l'obiettivo principale è quello di arrivare in finale Coppa Italia i ragazzi sono molto bravi, direi in questo momento stanno tutti bene, a parte Caceres lasciare fuori i giocatori è sempre difficile, però alla fine della stagione se centreremo gli obiettivi e dobbiamo qualcuno centrale portare a casa qualche trofeo, bisogna che tutti stiano in buona condizione mercoledì ci sarà da battagliare un'altra partita e quelli che non hanno giocato stasera dovranno essere pronti mercoledì a centrare la finale no, a che dire no, ha fatto una buona partita, era un po' faticato Chiellini è uscito a livello precauzionale